è sempre bella va stranissima vedi questa era quella speciale per il Mugello vedi questa è quella che c'è il cavalletto più alto sembrava che ci fosse più roba davanti la Honda 500 il culo alto e il manubrio basso che bomba questa si usava ancora la frizione questa era l'ultima questa era quella che andava più forte questa sembra che c'ha 5-6 anni in più più vecchia poverina questa è un po' diversa da quella che c'è quindi che bella questa magari su un po' segno diversa questa non è proprio lei secondo me bella questa è la più bella vado eh come adesso bello bella bella è presente qui in the paddock as well 2002 as he moved over to Repsol Honda I think after he's been so dominant on Yamaha sometimes people forget that he won 3 World Championships for Honda 2004 of course the big move the big win Velcom South Africa 2005 his fourth World Championship in the Premier Class back to winning ways though on the Bridgestone Shod Yamaha in 2008 his last World Championship 2009 win number 115 the most recent victory coming in atsen 2017 why if I love what I give my remedy if I love inside you why I give my remedy I give my remedy Grazie a tutti